In Sardegna, ad Oristano, si svolge l'antica giostra, tra religioso e profano nel tempo del carnevale. 120 intrepidi cavalieri corrono al galoppo, guidati dal leggendario componidori, per infilzare le stelle che garantiranno prosperità. Audaci sfidano la sorte per onorare la Sardegna, emozione senza tempo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS